Ciao capicini, bentornati in questo nuovo video, a me tu preoccupi tantissimo, ma comunque bentornati in questo nuovo video Oggi mostreremo i youtuber fatti con l'intelligenza artificiale ai miei amici Baddie e Marci Hai mai provato? La mia domanda è, ma fatti come? Fatti, cioè proprio li hanno montati e tutto quanto con l'intelligenza artificiale È tipo questo Pikachu che ti guarda con la faccia Dovete lasciare un mi piace, salutare nei commenti Pika Quindi mi raccomando, la regola è questa, hanno un minuto di tempo, loro devono guardare l'immagine E una volta confronto l'immagine posso farmi qualche domandina Passato il minuto di tempo, devono dirmi, secondo loro, chi è lo youtuber Partiamo, ok, vediamo un attimino ragazzi Cos'è? Sì, allora diciamo che gli youtuber sono un po' deformati, io chiaro così Allora, io ho già delle domande Ma... Allora, se siete sicuri della vostra scelta dovete stoppare il tempo per, appunto Tu non lo stoppi il tempo, non lo sei sicuro Bro, io non lo so, cioè Io questa, io l'ho capito Sì, ne ho stoppata 20 secondi Aspetta, prima di dirlo Voglio dirvi da quando ci sono arrivato Sì A primo impatto mi ha ricordato questa persona Ok E secondo me, si capisce questo youtuber dalla, dalla far, dalla bocca Ok Dai, va bene, questo qua era semplice, dai, va bene Ma posso dirlo? Sì, sì, dai Se tu lo sai che è È stoppato prima te, no, adesso te lo lascio dire Io... Dai, va bene, raga, questo qua era un po' per far capire il mood È il baddone, ovviamente, bravi Però però me la passi che la metto come profilo di... Ma era che c'ha degli occhioni giganti, ci sta bene, raga, eh? Ma poi perché ha un occhio in più, scusa? Gli ho chiesto appunto di farmi tre occhi di quei due giganti Sono un po' così Ok, ci siamo Nuovo youtuber Ok Io ho chiesto all'intelligenza artificiale di far sì che questo youtuber fosse inseguito da degli hamburger Ma infatti volevo chiedere perché ci sono degli hamburger È così, non lo so No, ok, ma so chi è Fa food? Eh Non credo faccia food E perché allora hai scelto degli hamburger? Tu ho stoppato il tempo? Io ho stoppato il tempo A 13 secondi? A 13 secondi Urca Però, 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 sono sicuro Ma devo essere sincero che... Però io non te lo so dire Dai, baddone, fammi qualche domanda in più, forza E gioca? Gioca È romano? No Napoletano? No È romano Secondo me è siciliano Ma dici che è quello che... Ma a me sembra tipo un misto tra checco bomba Sì Guarda che... È un misto tra checco bomba Io non so se siete così tanto sicuri di quello che... Perché io ho chiesto all'intelligenza artificiale anche di cambiarmi i tratti somatici E lo vedo Perché mi sembra checco bomba Allora, checco bomba, stepney, mister beast Allora, avete entrambi stoppato il tempo Siete sicuri di averlo stoppato? Marci c'ha ancora... Marci c'ha ancora 45 secondi Baddina a 15 Siete sicuri di non voler riprendere il tempo per ripensarci o volete lanciarvi subito il nome? No, io ci provo Io ci provo Allora, Marci prima perché ha stoppato il libro a tempo Quindi se c'è zecca, punto per Marci Allora, io vi dico come ci sono arrivato perché mi sembra corretta come cosa Allora, io penso di aver capito chi è tramite gli occhiali Perché sono caratteristici un bot Sono proprio quelli secondo me Ha fatto proprio bene l'intelligenza artificiale E anche il fatto che hai i capelli Diciamo Ok Eh, però ha tanti hanno i capelli Mi ha messo in difficoltà il fatto che tu abbia messo degli hamburger L'ho messo un po' per quel motivo E il fatto che sia in canottia Ok, vai Però secondo me è il nostro amico Alessandro Kendal Ok Buddy Io ti direi Stepney Perché magari ha cambiato gli occhiali per le mare Allora, ragazzi avete sbagliato entrambi Lorenzist, non dirmi che è Lorenzist Lorenzist Adesso fate ripartire il tempo Se volete dire Lorenzist lo dovete stoppare Però Io l'ho stoppato L'ho stoppato prima Eh, ci sta è Lorenzist Per me è Lorenzist Siete pronti? Sì È Lorenzist È Lorenzist Ha letteralmente gli occhiali di Kendal Sì, sì Ma è vero È vero, però guardate Io ho preso la foto dell'hamburger del Mac E gli ho chiesto appunto di fare questa modifica In intelligenza artificiale Va bene, ci sta Bravo Buddy, bravo, bravo Una a una allora Esatto Eh, dottore 3, 2, 1, via È 1,20 Ma cos'è quella roba di Io stanotte non dormo Cioè tu pensi di spiegare È un po' Ci ha provato, raga È l'intelligenza artificiale Ma quanto ci hai messo? Queste immagini sono fantastiche Cioè raga, vi giuro Ci ho messo un'ora e mezza Per far sì che l'intelligenza artificiale Facessero immagini come le volessi io È venuto un po' più grosso di quello che era Mentre lo dici No, secondo me Dai, vai Marci Dillo, dai Secondo me Sono io Bravo, bravo Allora Ho chiesto l'intelligenza artificiale Di fare Marci stile cartoon Con un elfo Più paffuto Con un cappello Da mago Ma perché? A me mette ansia Io non riesco a... Ma questo è bad di palermo Ma mi sembra di vedere Pikachu No, questo è tu allora No, non c'è nessuna foto Bro, è Pikachu Cioè guarda lo sguardo È Pikachu Un po' ci assomiglia Ma voglio vedere l'originale L'originale in realtà che ho preso Se non mi sbaglio è questa E quindi... È una delle più magre di faccia Eh, ma hai fatto la caricatura Però non ho chiesto io la cartoon Ok, ok Ok, bravo Marci 2 a 1 Per Marci 3 2 1 Via Bro, io penso che tu sia uno psicopatico Allora, ho chiesto all'intelligenza artificiale Di farmi questo youtuber di Minecraft Maschio italiano All'interno di una distesa di lava Con una bocca gigante E... Tu sei uno psicopatico Ok, Marci stop a 12 secondi Sì, io ho 18 Ma perché mi sono perso a guardare sto coso Che sembra il cugino It Ugito male Ok Ragioniamoci assieme Ragionateci Penso che entrambi abbiamo la stessa persona in me Però secondo me ha cambiato apposta Ragazzi, io vi ricordo che posso cambiare capelli È Occhi Naso Denti Posso cambiare tutto quanto Potrebbe essere Kenda, capito? Allora, diciamo così Dato che ho 12 secondi Ok Mi fa ripartire Marci? Però se fa ripartire dopo Buddy sarà il primo a dire la parola Deve stare sotto i miei cosi Eh, però tu hai il... No, però deve stare sotto i secondi Ok, va bene Veloce la domanda Nella vita reale ha gli occhi verdi? Eh, non lo so Te lo giuro, non lo so Bro, secondo me l'ha memata lui E c'ha... Ragazzi, io vi ricordo Che io posso cambiare tutto Io basta che... Ma tu potevi anche mischiare due... Io potevo anche mischiare di youtuber, ma... Ok, vai avanti Tempo I capelli sono come nella vita reale? Sì Ok 17,58 Ah, ragazzi 17,58 Quindi Marci Io ho un'idea ben in mente Diciamo che la bocca non è la sua Ok Il naso... Perché mi mancano un paio di denti davanti Ma secondo me sì Questa persona la capisci Semplicemente Dimmi se sei d'accordo ai capelli Sì, quello sì Sì, sì Non vorrei... Allora, può essere che stiamo facendo un'accordata Quindi nel caso Ok Metto le mani avanti Scusaci Lasciate un mi piace da parte per tutti Insomma Ok Che è? Secondo me questo ragazzo è Nico Bravo Dai capelli Dalla faccia sembra uno psicopatico comunque Te lo giuro Questa è una foto che ha preso di Nico Perché è l'unica foto che riesce a prendere di Nico Da psicopatico 3,1 prima da Marci Bravo, bravo, bravo Sì, va bene, bravo 3,2,1 Vai Ok Ci siamo Ma cos'è sta roba? Eh, sì ragazzi Ma è bravo se quello di dire Che figo però Fa Minecraft Ha fatto anche Minecraft Nella sua vita Adesso non lo fa più Non lo so Ho chiesto all'intelligenza artificiale Di fare questo youtuber Mentre cavalca un drago Però mi sa che qua è il contrario Ha fatto una serie È il drago che cavalca Lo youtuber Sì, sì, sì Ha fatto una serie di Titanfall Oddio Sai che non lo so Marci S'ha fatto Titanfall No Marci Io vi ricordo Io vi ricordo Che questo youtuber È di Milano? È di Milano Sì Ok È di Milano Sì è di Milano È di Milano Ma è di Milano trasferito oppure no? Eh buddy Lì mi chiedi veramente troppo Ci abbiamo mai collaborato? No Mai collaborato? Non lo so Avete poco tempo ragazzi Lo so Andiamo avanti Finché non fermo uno Va bene dai Dacci magari un indizio Che potrebbe aiutare Allora Solo una persona qua dentro Ce l'ha collaborato Una qua dentro? Solo una persona Ovviamente non puoi chiedere che persona Perché se no è troppo facile Esatto Ci ho collaborato io? Eh ma Bob Mi avete trovato Non puoi chiederlo? Ho chiesto Che solo una persona Ci ha collaborato Questa persona qua Con questa Con questo youtuber Una di noi tre Che ci ha collaborato Ha fatto un video di Minecraft? No Ha fatto un video di Call of Duty? No Io l'ho stoppato Buddy ha stoppato? Io Non sembra lui Ma Se sbaglia Io stoppo Ma se sbaglia Si va avanti dopo Ok Cioè lo devo dire veramente Sì E Stepney? Stepney Ci hai collaborato tu? Io A Parigi Non ci saremmo Ho pensato che la collaborazione È vero però Non sembra minimamente lui Te lo giuro Ma a me assomiglia Tipo a Gabby A quello dei DF Vero Assomiglia a sacco Ragazzi di DF Gabby Esatto 3 a 2 Buddy Può pareggiarla ragazzi Ultimo eh Guardate dritto a voi Mi raccomando 3 2 1 Via Non l'ho preso No aspetta Però ti devo fare una Io vi ricordo Che io posso cambiare I tratti somatici Delle persone Quindi Mi raccomando L'ho bloccato prima Marci No tu prima hai bloccato Hai 4 secondi di scarto Rispetto a Marci No aspetta Perché Ha cambiato i tratti somatici Potrebbe essere tipo anche Io posso aver preso una persona qualunque E dire voglio quella persona con quegli occhi Quella bocca Però c'è una cosa che non mi manca Cioè il mostro dietro è palesemente Xiao Bravo Xiao Mi sarei mai arrivato Bro i capelli bianchi Mai arrivato Marci i capelli bianchi Io avrei detto loco per dirti Ok Anch'io stavo per dire loco Però i capelli Però i capelli E la collana anche ragazzi Che è Xiao Supera i 5 mi piace E baddi avrà la sua nuova immagine del canale Noi ci salutiamo Ciao Bella